Il disimpegno degli Stati Uniti e del Medio Oriente ha come conseguenza quello di aprire spazi varchi a potenze esterne che tentano di inserirsi negli spazi lasciati liberi dal disengagement degli Stati Uniti. È stato il caso della Russia con la guerra in Siria e ora è il caso della Cina. Questa competizione globale che ormai si sta configurando fra Stati Uniti e Cina sicuramente ha dei riflessi anche in vari contesti regionali tra cui il Medio Oriente. L'impegno di mediazione che ha assunto Pechino negli ultimi settimane tra Iran e Arabia Saudita rientra da un lato nel tentativo di proiezione della potenza e presenza diplomatica cinese anche all'interno della regione mediorientale. La Cina per ora non presenta questo suo intervento in chiave antistatunitense, lo presenta più che altro come assunzione di un ruolo globale di potenza responsabile della Cina, però è chiaro che di fondo c'è anche il tema di quanto e come il disengagement degli Stati Uniti possa favorire la crescita di altri attori esterni, la Russia sicuramente ma anche la Cina.